Ci avviciniamo al Black Friday, un periodo molto particolare per musicisti, chi lavora nel nostro ambito, ma non solo, proprio per il commercio in generale e quest'anno sarà ancora più particolare rispetto a tutti gli altri anni. Prima di proseguire con il video ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Che il 2020 sia un anno eccezionale non c'è bisogno di ripeterlo ancora e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, lo saranno ancora per molto tempo in futuro. Mi premeva però fare alcune considerazioni riguardanti il Black Friday, che è l'ultimo venerdì di novembre, perché hanno una particolare importanza sia per quanto riguarda il nostro essere musicisti, produttori musicali o quant'altro, ma proprio in generale sia per quanto riguarda l'economia che la società. Per quello che può essere il mio piccolo contributo, ovviamente. Il Black Friday è un avvenimento che da qualche anno ha una sua rilevanza a livello mondiale per tutto il comparto commerciale, perché si stima che circa il 30% degli acquisti fatti nell'intero anno avvengono tra il Black Friday, quindi l'ultimo venerdì di novembre, e la fine dell'anno. È un periodo quindi molto importante per l'economia e siamo continuamente bombardati di sconti, offerte e quant'altro. Quest'anno, con il 2020 che abbiamo avuto, mi premeva fare alcune considerazioni, perché è opportuno che ognuno dia il proprio contributo e lo dia in maniera consapevole e con del buon senso. Qual è l'invito che voglio fare? Innanzitutto è di non riempirsi di cose inutili. Non è il momento di prendere qualcosa, qualsiasi cosa, soltanto perché c'è un buono sconto. Questo contribuisce ogni anno ad accumulare cose che poi prendono posto in un cassetto, in un armadio o in un computer. E allora l'invito è, soprattutto in un momento di grande difficoltà a livello mondiale, è quello di evitare di prendere qualcosa di inutile. L'oggetto di cui tanto senti il bisogno è veramente così o è soltanto uno sfizio? Si può rinunciare allo sfizio? Non tanto per rinunciare fine a se stesso, quello che se ne frega se qualcuno ha dei soldi da spendere che lo faccia, non c'è bisogno di riguardarsi. Il problema è che ci sono tutta una serie di attività e persone in difficoltà che potrebbero invece aver bisogno del tuo contributo. Ed ecco quindi l'invito che faccio. È di acquistare qualcosa in modo consapevole. Lo faccio relativo al Black Friday e lo faccio anche relativo a quello che sarà poi dicembre, Natale, le feste e quant'altro. Sostieni, per quello che è possibile, chi è in difficoltà. Questo significa acquistare musica, è il nostro argomento principale. Allora lo metto come primo, non perché sia assolutamente fondamentale per la società. Cioè sì, lo è, ma in un modo, come dire, è giusto che le cose abbiano il loro posto. Però allora, puoi acquistare musica, puoi sostenere un artista indipendente, puoi fargli un abbonamento, puoi fargli una donazione. Ci sono tanti modi, soprattutto sviluppatisi dopo i vari lockdown in tutto il mondo. Ne abbiamo anche parlato diffusamente sul canale. Ecco, acquista musica o sostieni un DJ che non può lavorare. Prima è tutto. È una cosa molto semplice che si può fare, anche con dei piccoli contributi. Io stesso ho ricevuto un contributo da parte di un utente, assolutamente spontaneo, e non lo faccio per fare pubblicità a questo, anzi, lo ringrazio e non finirò mai di ringraziarlo. Però è una cosa che si può fare. Ognuno scelga a chi vuole dare una mano, a chi magari in questo momento non può lavorare, può averne assolutamente bisogno. Si può sostenere un canale che fa DJ set. Si può trovare la soluzione in tantissimi modi e non c'è cosa migliore che dare un contributo diretto a una persona che si apprezza in qualche modo. E lo stesso si può fare per qualsiasi tipo di attività. Si può andare da una bottega locale, da un'attività locale, si può fare un buon acquisto da regalare. Ecco, se devi comprare un paio di scarpe, si può evitare la grande distribuzione o il negozio online, si può andare dal negozio che fa fatica, che è costretto a stare chiuso in base alle leggi regionali e nazionali e così via. Si possono sostenere le attività culturali, si possono sostenere le piccole librerie. Insomma, le soluzioni ce ne sono di ogni tipo. Evita di prendere quella cosa di cui sai che non ne hai bisogno. Ne parliamo spesso, non è l'attrezzatura che fa l'artista, ma sono le idee e sono come le usa e cosa ci fa con queste attrezzature. Quindi prima di prendere un altro oggetto, un altro programma, un altro software, un altro plugin o quant'altro, pensa veramente a cosa puoi farne, cosa farci, come e perché, e anche come puoi contribuire nel tuo piccolo a sostenere chi è in difficoltà. Invece di stare a lamentarti, cerca di adottare delle soluzioni utili per la comunità e di dare il tuo piccolo contributo, come e a chi vuoi tu. Grazie intanto per aver seguito questo video e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.